Sono tre gli arrestati per una rapina avvenuta allo scorso luglio in un supermercato di Via Campana nel comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Sono ritenuti coinvolti nella rapina le due persone arrestate ieri dai carabinieri. Si tratta di Giuseppe Di Fraia, 28 anni, e di Giacomo Cultrera De Rosa, di 20. Per questa rapina è già stato arrestato Francesco Pio Carandente. I militari di Pozzuoli, attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, hanno ricostruito il percorso dei banditi prima e dopo la rapina. Sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza utili a dimostrare come il motoveicolo condotto da Di Fraia si sia mosso in modo congiunto e coordinato con lo scooter utilizzato dai rapinatori, fungendo quindi da apripista per la commissione della rapina. Nei video acquisiti dagli investigatori si vedono gli scooter sfrecciare nei pressi del luogo della rapina prima e dopo che questo avvenisse.